Adesso Lascoli non vi riprende più. Perché ce ne frega del Lascoli. Insomma è secondo in classifica. Non ce ne frega del Lascoli. Allora il Teramo in B? Noi dobbiamo pensare al Teramo e dobbiamo anche metterci in mente che le partite si vingono sul campo io quelli che ho fatto fino adesso li ho vinte sul campo e quelli che farò da adesso alla fine li vincerò sul campo. E questo è il vero calcio. Il calcio anche di squadre che sono matricole di squadre che per la prima volta fanno questi campionati così importanti. Alla fine forse possono vincere anche loro. Quindi se vinciamo lo vinceremo sul campo. Questa è la cosa più bella. Il pubblico forse è già pronto perché ce ne sta dando dimostrazione di domenica in domenica. Adesso tocca a noi fare l'ultimo piccolo sforzo. Dopodiché gioiremo tutti insieme. Che sensazioni ha oggi in questo momento? Che prova? Ma che prova? Provo le emozioni perché ho io di quelle e poi provo che tutta una città tutta una provincia tanti della regione vengono a Teramo guardano la partita si divertono provo delle cose bellissime sono tre giorni che penso solo a questo quindi speriamo che la prossima settimana non cominci da domani perché fare ancora quattro partite significa un mese un mese senza sonno credo che non è una cosa tanto normale grazie a tutti grazie a tutti Grazie.